A margine di questa giornata c'è un altro argomento che riguarda il mare e riguarda un po' il dibattito cittadino, ossia il waterfront. Cosa vuole ribadire il sindaco su questo aspetto? Io sto lavorando insieme a tutta l'amministrazione, insieme alla Regione, al Ministro delle Infrastrutture, all'autorità portuale, all'Agenzia del Demanio, alla Capitania di Porto, perché storicamente la calata Giubatta Paita venga restituita alla città con 58.000 metri quadrati. Si fa in base alle procedure, in base alle norme, non si fa giocando a monopole o facendo le battute, quindi facciamo passo per passo e seguiamo questa cosa. La calata Giubatta Paita è in concessione a Conship in modo originale dal 2015. Noi chiediamo che al più presto venga restituita la città e poi lì ci sarà chiaramente una gara per una progettazione, per vedere il futuro, che noi sappiamo già che cosa vorremmo in quel luogo, però siccome è un luogo importante e pregiato, prima bisogna sapere quando sarà a nostra disposizione.